Non è stata una puntata facile per Francesca Tocca, quella del D-Time di Amici di Oggi. Tutto è avvenuto in maniera inaspettata, e a un certo punto Francesca Tocca non è riuscita a trattenere le lacrime. Ma vediamo cosa è successo. La ballerina professionista ha fatto una lezione insieme a una delle nuove cantanti della scuola, Aisha. La giovane allieva ha confessato di non riuscire a lasciarsi andare a causa di alcune insicurezze che ha. Anche Maria De Filippi si è accorta delle insicurezze di Aisha, ed è decisa nell'aiutarla a superarle. Quindi si è collegata con l'aula e ha spinto Aisha a togliersi la felpa per ballare più liberamente. Aisha si è rifiutata dicendo che per lei era come uno scudo. A questo punto la tocca si è lasciata andare. Ti capisco. Questo è il primo passo per superare quella barriera che tu vedi, ma che magari vedi solo tu. Noi magari ci facciamo tanti complessi, lo dico a te, ma anche a me stessa. A questo punto è intervenuta di nuovo Maria che ha spiegato ad Aisha. Nonostante Francesca sia bellissima e con un fisico praticamente perfetto, ciò non vuol dire che non abbia anche lei delle insicurezze. Sentendo queste parole, Francesca ha pianto, ma dando le spalle alle telecamere. Anche Aisha si è commossa, mentre Maria continuava a ripetere che le insicurezze appartengono a tutti. Maria ha chiesto a Francesca come stesse, e la professionista si è scusata per le lacrime, ma non serviva a scusarsi. La De Filippi le ha risposto così. Era importante che lei capisse che non appartiene solo a lei. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.